La quinta domenica del tempo di Pasqua con il testo del Vangelo ci riporta l'ultima cena di Gesù nel Cenacolo di Gerusalemme e come ogni settimana per comprendere la parola che il Signore vuole donarci c'è Padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a te carissima Anna Maria, ai nostri tecnici e a tutte le amiche e gli amici che ci seguono sempre con tanta fedeltà. Grazie, allora noi ti ascoltiamo, siamo tutti orecchi. Beh io innanzitutto vorrei dire una cosa, giustamente tu hai detto siamo davanti a uno dei discorsi prima della Pasqua, in realtà dopo la Pasqua la liturgia domenicale ci fa fare una sorta di ricomprensione alla luce della Resurrezione di quei grandi discorsi che ha fatto Gesù. Abbiamo anche celebrato il discorso del capitolo 10. In un certo senso ci fa vedere come sono nati i Vangeli. I Vangeli sono nati dalla ricomprensione alla luce di Pasqua degli avvenimenti, dei fatti, delle parole che erano avvenuti prima della Pasqua. Oggi noi siamo davanti al capitolo 13 che è il primo dei tre grandi discorsi, capitolo 13 e capitolo 14, poi il secondo è capitolo 15 e 16, il terzo discorso è al capitolo 17, chiamato anche il Testamento. Che cosa succede? C'è stata la lavanda dei piedi e Gesù ha annunziato il tradimento. Giuda esce dal cenacolo e subito Giovanni fa quella annotazione tipica ed era notte, caienniux, bellissimo quel testo, la notte, che in Giovanni indica sempre il momento della chiusura. Uno dei discepoli più intelligenti esce per portare a compimento, dopo aver preso da Gesù quello che ancora oggi i greci chiamano l'opsomion, il boccone prelibato. Oggi questa parola indica ancora l'eucaristia. Il capotavola in genere offriva questo boccone all'amico più intimo. E' un gesto di grande amicizia, direi proprio di grande affetto. La cena inizia proprio con questo boccone prelibato che Gesù offre a Giuda, rinnovando sempre la sua amicizia, pur sapendo che sta per essere consegnato, dice Giovanni, cioè tradito. E' in quel momento che l'Evangelista dice che Satana entrò in Giuda. Giuda diventa l'amico che tradisce. Forse pensa di portare Gesù a rivelarsi in potenza. In realtà il mistero pasquale non è come vuole Giuda, ma è un cammino di donazione umile, obbediente al progetto del Padre. Certamente possiamo dire che il tradimento di Giuda segna, secondo l'Evangelista, l'irrompere del male nella storia degli uomini, che come sempre devono impegnarsi a costruire la somiglianza con Dio. Noi dobbiamo costruire questa umanizzazione ed è un cammino fatto di lotta. Lotta mai contro gli altri, ma contro se stessi. Un cammino di discernimento e anche di determinazione a seguire la via evangelica. Ecco perché il particolare giovanneo, ed è la notte, è veramente interessante. Perché nel quarto Vangelo la notte è l'opposto del giorno e quindi della luce, ma la luce è Gesù Cristo. Quindi la notte è assenza di luce, assenza di Gesù Cristo. L'Evangelista indica quella luce anche interiore di sapienza, che solo viene donata dall'altro. È la luce, potremmo dire, secondo Giovanni, del credere. Il quarto Vangelo preferisce sempre usare i verbi più che i sostantivi. Il credere è un verbo che si coniuga con l'altro. Amare. Chi crede ama, chi ama crede. Sì, la fede e l'amore nel quarto Vangelo sono presentate come due facce della stessa medaglia. Ma Gesù, come interpreta il gesto di Giuda? Spesso ci chiediamo solo che cosa ha fatto Giuda, che cosa aveva nel suo cuore. Ma in realtà Gesù, come commenta il gesto di Giuda? Perché appena uscito il testo, va letto subito al versetto 31, Gesù stesso dichiara Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Una frase veramente scultoria. Che vuole dire? Che l'amore divino è più forte del male. E quindi nemmeno il tradimento di questo amico può annullare il mistero pasquale. Certo, c'è un potere del male, ma è un potere, come ricorderà l'Apocalisse, che è limitato. Anzi, addirittura, qui c'è veramente un paradosso, cioè paradoxo oltre ogni logica umana. Gesù legge il gesto di Giuda come il gesto inaugurale di quello che è il suo mistero pasquale. Gesù sta per compiere sulla croce il dono della vita. Giuda crede di poter spingere Gesù nella logica umana. In realtà Gesù porta avanti il progetto del Padre. Quindi questo evento significa pure che la comunità vive sotto il segno della fallibilità. L'Evangelista Luca, il terzo, dichiara che la Chiesa, lo diciamo spesso, inizia in undici, perché Giuda non c'è più, per dire che aspetta sempre la Chiesa una completezza che vede da Dio. È Dio che indica chi è il dodicesimo apostolo, per indicare la completezza di quel dodici che indica tutta la Chiesa nelle sue varie vocazioni. Quando noi credenti andiamo oltre la logica mondana che è fatta di bramosia, di egoismo, di dominanza sugli altri, dobbiamo prendere coscienza che siamo esposti al male, che siamo esposti al peccato. Ecco perché chiediamo al Signore non farci cadere nella prova. L'unica sicurezza è quella della relazione di fede con Gesù Cristo. È Lui il centro vitale della comunità. Per cui, che vuol dire questa parola di Gesù? Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Doxazzo, questo verbo molto usato da Giovanni. L'espressione innanzitutto guarda in avanti, cioè al momento supremo della croce, perché la croce in Giovanni è l'evento di una presenza. Sulla croce si rivela la presenza del Padre. È quello il momento, il luogo supremo in cui il Padre rivela tutto il suo amore per noi. E il testo afferma che sia in Gesù che attraverso Gesù si manifesta il Padre. Quindi la croce è, come dire, la rivelazione della presenza del Figlio nel Padre e del Padre nel Figlio, nella forza dello Spirito Santo, che poi è il primo dono che Gesù dalla croce fa. Chi nato il capo consegnò lo Spirito. E quindi è giunto il momento che Gesù, per portare a compimento ogni cosa, debba essere anche separato dai suoi discepoli, i quali non comprendono questa apparente separazione. Da questo momento in poi, cioè, non lo potranno più seguire con una sequela fisica visibile, ma è nella forza dello Spirito che tutti i credenti avranno la relazione con il Risorto. E solo in Lui possono compiere la missione. Ecco il testo che abbiamo già meditato di Giovanni XXI, la famosa pesca miracolosa. Senza di me voi non potete far nulla. Con Gesù hanno pescato 153 grossi pesci, cioè la totalità. Il tempo ormai si è fatto breve, dice Gesù in quest'ultimo scorcio. Prima di questa separazione, soprattutto Gesù consegna in questo Vangelo il comandamento nuovo. Io vi do un comandamento, quello nuovo. Che vuol dire qui quello nuovo? Cioè esclusivo. Un comandamento completo. Cioè qual è questo comandamento? Gesù dice che vi dovete amare gli uni gli altri nella misura in cui io ho amato voi. E mi piace tradurre così. Dovete amarvi gli uni gli altri allo stesso modo e nella stessa misura in cui io amo voi, dandovi la vita. Quella particella come non solo indica uno stile di vita che bisogna fare proprio, ma indica proprio che l'amore di Cristo è l'unico modello, il sole ed esclusivo modello da seguire, ma è anche al tempo stesso la fonte dell'amore. È questo amore scambievole che poi diventa il segno di appartenenza a Gesù. Tutto questo oggi ci viene dato in modo splendido nelle parole che Giovanni ci racconta. Benissimo. Quindi non come io vi ho amato voi amate me, ma come io vi ho amato amatevi tra di voi. Cioè Gesù è il criterio di rifiuto, è la fonte dell'amore, ma è anche il criterio di misura dell'amore. Perché in greco c'è questa particella katos, che in genere le Bibbie traducono con un modale, come io ho amato voi, così fatelo pure voi. Potrebbe sembrare solo imitazio, imitazione, ma non c'è la misura. Invece noi dobbiamo imitare la misura e la qualità dell'amore, in modo che riesco a farvi capire meglio. Non solo la qualità, ma anche la misura. Quindi davvero dobbiamo amare con l'amore di Gesù, perché l'amore viene da Dio. L'amore è il dono supremo dello spirito, che solo Gesù può darci. Quindi è lo spirito che dentro di noi ci insegna ad amare. L'amore viene dall'alto. Nessuno di noi sa amare se non è in Gesù Cristo. Per cui c'è una sorta di consegna, è un ribadire che lui è al centro della comunità. Lui è il centro fontale. Ecco perché anche Paolo dirà sempre in Cristo, in Cristo, in Cristo, in Cristo Gesù. E userà sempre quella parola Cristo Gesù. Difficilmente mette Gesù Cristo, perché Cristo è il Messia, il Signore, il Kyrios, è Adonai, il nome di Dio. Per cui dobbiamo riprendere sempre in mano e leggere questi discorsi, non come una sorta di intimismo quasi filmico, ma in realtà sono pagine di teologia che ci consegnano la verità del mistero. E quindi dovremmo meditarle nel profondo. E avremo il tempo di farlo, anche grazie a te. Padre Ernesto, ci ritroviamo la prossima settimana. Certamente. Buona Pasqua della settimana. A te. Shalom. Buona Pasqua della settimana.